Nella scheda Proprietà del pannello principale del menu a tendina per attivare il tipo di linea di comando di più. Nella finestra di dialogo Gestione tipo di linea, attivare il comando Load. Selezionare la linea tratteggiata. D'accordo con la scelta, premere il pulsante OK. Assegnare il valore della corrente. Attivare il comando Line e creare una linea tratteggiata in AutoCAD. Grazie per la visione!